E' Parolo Fonseca il nuovo allenatore del Milan. Ex della Roma, dell'Ile dello Shakhtar Donetsk si insedia dopo l'addio di Stefano Pioli che è stato l'allenatore dell'AC Milan. Finalmente giunge l'accordo, arriva il comunicato stampa che sancisce in maniera nitida e diretta quanto basta l'arrivo del cinquantenne come nuovo CT commissario tecnico del club rosso-nero per eccellenza. Un bellissimo, una bellissima immagine di Fonseca con su scritto Welcome Paolo Fonseca. Dunque per lui c'è un impegno contrattuale di ben tre anni, un contratto quindi triennale per circa 2 milioni e mezzo di euro a stagione. Sia ben chiaro che questi dati li ho trovati qua sul web, non sono io ad averli tirati fuori, prendetevela se vi va col web e con internet. E questo video non vuole vedere la frase di Fonseca ma solo informare Stop. Nasce infatti solo per questo motivo, non per altri motivi, non per altre ragioni. Benvenuto a Paolo Fonseca, almeno speriamo che farà grandi cose e che porterà il Milan al nuovo splendore. Ciao!